Si completa questa sera il quadro delle partite del quarto turno di Coppa Italia che hanno portato alla fase successiva Lazio, Sassuolo, Verona, Atalanta, Empoli ed Udinese. Si parte alle 18 al Sant'Elia con la sfida tra Cagliari e Modena. La squadra di Zedek Zeeman dopo la sconfitta in campionato cerca il rilancio nella prestigiosa competizione europea. Stessa cosa dicasi anche per la Sampdoria che dopo l'1-1 interno contro il Napoli di lunedì vuole a tutti i costi la finale. Come ha detto il tecnico blucerchiato Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa per gara. Tra l'altro le partite saranno distribuite in questa maniera. Cagliari-Modena comincerà alle 18 e il Sampdoria volisce alle 21. Grazie a tutti.